Amici sportivi, bentornati allo stadio Piole, finale 2-2, finisce tra Novara e Provercelli Giovanni, c'è tanto ramarico per un Novara che era 2-0 dopo 8 minuti è arrivato poi questo 2-1 che ha riaperto nel primo tempo nel secondo Novara ha cercato di gestire e ancora una volta è arrivato un gol al novantesimo che sa, insomma, di grande beffa Eh sì, è un pareggio ma per come era scaturita la partita, per come si era mezzo risultato si potrebbe dire che equivale quasi a una sconfitta è un peccato perché il Novara era stato bravissimo a indirizzare subito la gara sui binari giusti il 2-0 in 8 minuti aveva illuso che si potesse superare anche abbastanza facilmente una difesa quella vercellese che secondo me non ha dato segnali di solidità poi il Novara si è abbassato troppo ha abbassato troppo il proprio baricentro il Novara e forse è stato quello l'errone concedere troppo spazio nella ripresa agli avversari e alla fine hanno trovato coraggio e sono arrivati al gol che, come dicevi tu, sa molto molto di beffa sì, insomma la squadra sta parlando sotto la curva una curva oggi che ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto ci sono gli applausi in questo momento insomma è un Novara che ottiene in questo modo il sesto pareggio consecutivo Giovanni, il sesto pareggio consecutivo che chiaramente sotto un certo punto scusate, sorrido perché ci sono davanti alcuni tifosi che vogliono tenere la bocca cucita e dicono, ecco insomma non è caso non vogliono poi in realtà parlare sorriso ma è un sorriso amaro no Giovanni? è un sorriso amaro perché, ripeto, sul 2 a 0 tutti noi, tutti i tifosi del Novara chiaramente si auguravano un finale diverso è un peccato, la strada per la salita di questo Novara resta ancora molto ripida ricordiamo che in questo turno la Pergoletese ha vinto quindi sicuramente è ancora molto molto lontano l'obiettivo o meglio, bisognerà trovare delle vittorie concrete i tre punti concreti che possano in qualche modo garantire al Novara che avrà uno slancio in una classifica che è sicuramente ancora molto molto critica insomma, Filippo buonasera a tutti è un 2 a 2 amarissimo, un po' come il 1 a 1 contro Renate un Novara che poteva avere quattro punti in più ma i due di stasera senza ancora pensare quelli di Renate sarebbero stati pesantissimi sì, diciamo che secondo me nello sport in generale in questo caso del calcio è anche alla testa a fare la differenza e io prima della partita ho detto che sicuramente vedendo anche Lull e le dinamiche con cui le due squadre si avvicinavano al match si poteva prevedere una Povercelli che potesse... intanto scusi di inizio Rocco, però vedo che c'è Scappini che purtroppo insomma è entrato negli ultimi minuti lo stanno portando via in parella sicuramente questa non è una bella notizia sono un giocatore che... purtroppo no, sì purtroppo sì, è un periodo che gioca anche poco adesso giocando si è anche fatto male poteva essere... adesso non so cosa... infatti Novara gli ultimi 2-3 minuti del recupero ovviamente li ha giocati ogni scuola sì, 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 infatti purtroppo Scappini non è un periodo certamente fortunato per lui perché purtroppo gioca poco e anche adesso giocando poco si è fatto anche male non so quali possano essere gli esiti però sì, non riuscendo a uscire dalle sue gambe del capo con le sue gambe del capo ma in parella sicuramente non deve essere qualcosa di leggero quello che appunto, tornando alla partita dicevo, Novara ha approfittato del fatto che la Povercelli sicuramente ha approfittato la partita non in modo sereno ma completamente diciamo bloccato, quasi paralizzata dall'ansia e dalla tensione infatti già anche prima dei due gol c'era stata una visaglia su un'azione con una chiusura in estremi verso il quale qualcuno del Novara aveva reclamato anche un possibile rigore ma comunque era poi scaturito un angolo pericoloso però fin dai primi minuti, nei primi sette, otto minuti la Povercelli era stata completamente confusionale anche il loro portiere stesso perché su una seconda volta non era niente faceva pensare no, più che altro ecco poi purtroppo c'è da dire che nel primo tempo la partita si è un po' sporcata è diventata un pochettino confusa la Povercelli ha trovato quel gol su un errore del Novara perché un duplice perché comunque ha perso palla in uscita nella propria metà campo e poi anche il giocatore sulla faccia sinistra su un rivaltamento è stato abbastanza libero di crossare e il loro colpitore di testa ha staccato in mezzo a due del Novara per fare il gol del 2-1 riaprendo la partita nel secondo tempo proprio c'è stata una fase tutto sommato relativamente confusa nella prima parte nel finale quando il Novara sembrava che stesse ritornando a prendere un certo controllo c'è anche stata l'occasione di Ongaro nel finale quando il portiere loro si è stato bravo ha fatto una buona parata però poi purtroppo anche lì tu parlavi della partita con Renate secondo me qualche fantasma ha provato a trovare strada nella testa dei Novaresi e purtroppo ancora una volta siamo qui a parlare di un gol subito nel finale proprio al novantesimo secondo me queste cose sono punti persi secondo me queste cose purtroppo nella testa qualche segnale lo lasciano perché adesso dopo due volte consecutive che ti sei fatto raggiungere al novantesimo e rischi un pochettino poi tutte le volte di andare al finale un po' con la tensione che non ti fa giocare tranquillo e rischi di buttare via punti che sono pesanti un'altra volta è un'altra vittoria sfumata che pesa molto Giovanni insomma chiudiamo dicendo che comunque mancano partite come il Novara non deve assolutamente mollare c'è ancora tutta la possibilità di farcela bisogna andare subito a crema a proprio provare a tornare a questa vittoria ricordiamo che la pergolettese ha vinto 2-0 oggi contro l'Atalanta senza dubbio la gara con la pergolettese sarà una gara che anche in considerazione del risultato che è scaturito oggi il Novara dovrà cercare di far sua tre punti sarebbero fondamentali nel raggiungimento della salvezza ricordiamo che però il Novara ha altre partite con avversarie dirette praticamente mi viene in mente il Fiorenzoola il Trento giusto per citarne due mancano solo sei giornate e fallire ancora l'appuntamento con la vittoria bisogna tornare la vittoria perché Giovanni è vero che... potrebbe essere pericoloso fallire l'appuntamento con la vittoria nella prossima gara potrebbe cominciare a essere un po' pericoloso bisogna mettersi alle spalle un pareggio che quello di oggi che lascia sicuramente nel rammarico i tifosi azzurri potrebbero non essere soddisfatti e c'è da capirli però quantomeno hanno dato vita a un bel primo tempo e bisogna ripartire da lì va bene Giovanni insomma ricordiamo ancora una volta il risultato Novara 2 Provercelli 2 insomma diamo l'appuntamento al prossimo match in Casarigo che sarà contro il Lumezzane ricordando che però c'è una partita fondamentale a Crema una buona serata da parte di Marco Cito e da parte di Giovanni Chiorazzi